Ciao a tutti cari amici e bentrovati sul mio canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, a coloro che mi seguono da tanto tempo, vi ricordo fantastica stefano chioccioladiago.it la mail di riferimento se volete informazioni o se volete prenotare consulti perivati e personalizzati con me. Grazie a tutti per i commenti che mi avete lasciato negli ultimi video, grazie per i like, commentatemi sotto i vari video per rendere ancora più interattivo il canale. Datevi comunque un feedback, mi raccomando. Oggi siamo con il terrotroscopo, quindi con l'oroscopo, con le previsioni divise per segni di aria, acqua, terra e fuoco per la settimana che va dalla lunedì 19 a domenica 25 luglio 2021. Incominciamo con i segni di aria, gemelli, bilancio, acquario. Eccoci qui cari amici del segni di aria, ben trovati, se vi va iscrivetevi, lasciate un commento, attivate le notifiche attraverso la campagna in alto destra, se vi va, fantastica stefano chioccioladiago.it la mail di riferimento per avere informazioni sui consulti privati di Cartomansella, vi lascio qui sotto tutto nei box di informazioni. Siamo arrivati a questa settimana dal 19 al 25 luglio 2021 e incominciamo con le vostre previsioni. Oggi utilizzo un metodo che diciamo non è che non l'ho mai fatto, l'ho fatto però lo renderò un attimino più completo. Non andrò a suddividere i messaggi per sfere di amore, amicizia, rapporti, lavoro eccetera eccetera, ma andiamo a vedere attraverso ben quattro matti di carte, quali sono i messaggi e le energie che appunto gli arcani, Sibille e Tarocchi vogliono darmi, ok? E quindi per voi cari amici del segni di aria. Allora, incominciamo con le prime quattro carte. Abbiamo il sette di spade vicino alla alla barca, vicino al successo e vicino alla carta angelica, in questo caso rovesciata, dell'angelo Elimia. Ok. Allora cari amici, vediamo i primi messaggi. Abbiamo il sette di spade. Allora, il sette di spade è una carta che mi può parlare di eventuali raggiri, eventuali inganni. Una persona che, attenzione, potreste essere anche proprio voi, perché bisogna capire se siete voi o se sono persone intorno a voi, ok? Però per questo, per avere la certezza bisogna fare un consulto privato. Comunque sia, o voi o un'altra persona è come questo sette di spade, volete in qualche modo scappare da qualche situazione o qualche persona senza affrontare di petto appunto la dinamica e la circostanza. Quindi qua c'è il cosiddetto fuggire, il fatto di essere poco responsabili. Dovete, voi oppure le altre persone, avere il coraggio, ok, di affrontare la situazione e quindi anche capire quali potrebbero essere le eventuali conseguenze di questo vostro atteggiamento. Ok. Qui c'è, potrebbero esserci degli inganni, dei tradimenti, ripeto, il voler fuggire, il voler scappare a tutti i costi da qualcosa o da qualcuno piuttosto che affrontare a testa alta. Ok. È come se voi o un'altra persona nascondiate qualcosa. Ok. Avete appunto paura che questa, diciamo, questo segreto venga a galla. Ok. Ora, detto ciò, la prima carta non è così positiva, però abbiamo la carta della barca, la carta del successo che sono comunque due carte positive. La barca può indicare un movimento, uno spostamento, può essere anche un viaggio per svago o per lavoro, può essere anche un trasloco, il fatto di prendere anche un mezzo di trasporto, incominciare un lavoro da puntista commerciale di import ed export, anche il fatto di negoziare con un'altra persona. Ok. Qua ci potrebbe essere proprio uno spostamento, nuove prospettive. Ok. Il fatto di conoscere anche persone a distanza, anche attraverso delle chat, di incontri. E comunque sia, vicino alla carta della barca, abbiamo la carta del successo. Quindi sicuramente è un cambiamento, un movimento, ok, che può portarvi comunque il successo. Può avere a che fare anche con rapporti con persone straniere. Quindi incontri con persone straniere o comunque persone che non sono vicine al vostro luogo di origine o comunque il luogo dove abitate attualmente. Ok. Quindi qua, se c'è qualcuno che vuole un cambiamento, vuole spostarsi anche per lavoro, per amore, c'è la possibilità comunque di arrivare al successo. Ok. Ma mi raccomando, lavorate voi o fate attenzione a altre persone che vi vogliono un po' tradire, vogliono un po' ingannare. Attenzione se siete voi i diretti interessati di questa cosa. Quindi se siete voi che, almeno durante questa settimana, avete questo mood di voler, in questo caso, raccontare bugie o allontanarsi da una o più situazioni o persone senza, diciamo, affrontare le conseguenze e quindi parlare con il diretto o la diretta interessata. Ok. Una cosa che poi vado a capire con l'ultima carta a rovescio è che durante questa settimana sarete meno, diciamo, forti, tra virgolette. Vi manca il potere, il fatto di non riuscire a comportarvi come, appunto, sia giusto per voi, sia corretto. Perché questa è una carta legata anche a Marte. Marte può essere anche, a livello comunque negativo, può essere anche aggressività. Quindi, attenzione, tenete a bada, a freno, il vostro, la vostra impulsività, la vostra aggressività, il vostro potere. Dovete saper utilizzare in maniera giusta, coscienziosa, il vostro potere, potere personale. Ok. Qua c'è qualcosa che vi sta tormentando e non riuscite, molti di voi non riescono a capire che cosa, dal punto di vista proprio emotivo e spirituale. Ok. Qua potrebbe essere anche una situazione che vi lega a un segno, al segno della riete, che è un segno di fuoco. Ok. Perché questa angela è legato al segno della riete. Ok. Quindi, i messaggi possono essere comunque vari. Ripeto, queste due carte centrali sono comunque confortanti. Dovete però capire anche queste due carte che sono all'esterno della stesa. Quindi, lavorate anche su questi due aspetti. Ok. Ma andiamo avanti con gli altri messaggi. Vado a pescare altre quattro carte. Abbiamo il dieci di spade, vicino al bouquet, vicino alla carta del silenzio. E vicino all'oracolo angelico, al rovescio, che è riferito all'angelo Nema mia, però in questo caso al rovescio. Allora, qui cari amici, non riuscite durante questa settimana non riuscirete a capire in toto, o comunque a 360 gradi, una persona, o anche più persone, o comunque una situazione o una dinamica. Tutta questa situazione vi genera comunque sofferenza, un dolore molto molto forte. Però siamo di fronte a un dieci, quindi è una situazione che sta per finire, sta per concludersi. O comunque siete voi che volete a tutti i costi porre fine a una situazione, a una dinamica comunque difficoltosa. Collegandola alla carta che vi ho detto poc'anzi, riferita anche al sette di spade, ok, può indicare, ripeto, un tradimento, un inganno, o attenzione alle persone che vorrebbero in qualche modo pugnalarvi alle spalle, o comunque causarvi dolore e sofferenza. Aprite bene gli occhi durante questa settimana. Soprattutto se magari ricevete una più proposta da parte di alcune persone. Soprattutto dal punto di vista lavorativo. Sì, potrebbe esserci anche un cambio, una nuova prospettiva, un viaggio per lavoro. Però attenzione, valutate bene i documenti contrattuali, comunque il contratto che l'azienda o l'altra persona vi vuole offrire, perché il bouquet è sempre un'offerta, una proposta. Ok? Dovete cercare di stare un attimino in silenzio, concentrarvi sul vostro terzo occhio, meditate anche, fate delle meditazioni sul chakra del terzo occhio. Riflettete prima di prendere una decisione importante. Ok? Perché in qualche modo, ripeto, voi non riuscite a capirvi in primis voi stessi, o comunque a capire anche l'atteggiamento, il comportamento delle persone che avete di fronte a voi. E in questo caso potrebbe essere anche una persona del segno del capricorno, segno di terra del capricorno, o comunque portatore o portatrice dell'ascendente in capricorno. Ok? Persona che in questo caso vi può star facendo riflettere molto. E attenzione perché può generare in voi una sorta di sfida, di sofferenza. Ok? Anche un problema che magari non ve lo sareste mai aspettato da questa persona. Quindi che può essere causato da questa persona, uomo o donna, del segno del capricorno. Ok? State un attimino in silenzio, riflettete, meditate, attenzione a vagliare bene eventuali proposte. Quindi leggete bene anche clausole contrattuali prima di apporre una firma. Ok? Non siate impulsivi. benissimo. E andiamo avanti con gli ultimi messaggi. Allora, abbiamo la carta della regina di spade. Tutte carte di spade, le prime che ho estratto. Il quadrifoglio. Un'apertura. e poi, per quanto riguarda le carte angeliche, sempre a rovescio, quindi energie più basse, legate all'angelo. Ok? Allora, qui dovete concentrarvi sul vostro lato spirituale. Ok? Durante questa settimana. E se volete fortuna, successo, abbondanza, anche un'apertura in una pistola della vostra vita. Ok? Dovete cercare di far leva sulla vostra capacità logica e razionale. Perché la regina di spade mi parla proprio di capacità dell'intelletto di giudicare e di discernere in modo imparziale. Senza, in questo caso, farsi troppo coinzionare dall'emotività, dal sentimentalismo. Dovete mettere in atto la vostra intelligenza, il vostro intuito e tutto questo vi porterà, comunque sia successo, fortuna, abbondanza e anche apertura in uno o più campi della vostra vita. Dovete però anche lavorare sulla vostra sfera prettamente spirituale. Ok? Fate attenzione ad eventuali calunnie. Ripeto, fate attenzione alle persone che avete intorno, soprattutto durante questa settimana o comunque durante il breve periodo. Perché magari vorrebbero fare buon viso a cattivo gioco. Sia sul lavoro, sia da puntista di soldi, da puntista di rapporti interpersonali, qualunque essi siano. Capite bene la situazione, siate meno impulsivi e cercate di utilizzare la vostra capacità razionale, la vostra capacità logica. Anche per risolvere una determinata situazione. Ok? Benissimo, questi sono gli amici per i segni d'aria. Andiamo avanti con i segni d'acqua, cancro, scorpione, pesci. Ben trovati cari amici dei segni d'acqua. Fantastica Stefano, chioccioli.it è la mia di riferimento se volete informazioni sui consulti privati di cartomanzia. Vi lascio qui sotto tutto nel box informazione. mi raccomando lasciatemi un commento, siate partecipi sotto i video, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanina in alto a destra. Oggi utilizzerò quattro mazzi, in maniera comunque generica, e andiamo a capire quali sono le energie, quali sono le influenze di questa settimana. Incominciamo con i primi messaggi, cari amici dei segni d'acqua. Abbiamo la forza, vicino alla forza abbiamo le stelle, poi abbiamo comprensione, e poi per le carte angeliche abbiamo al diritto la carta dell'angelo Mellahel. Beh, benissimo. Allora, settimana comunque interessante, sarete comunque battaglieri, forti, coraggiosi, determinati, è una forza ovviamente che non è una forza fisica, non è che volete picchiare qualcuno, è proprio la grinta, la determinazione, perché volete a tutti i costi raggiungere un obiettivo, raggiungere un traguardo. Qui c'è la manifestazione nel mondo reale dei vostri sogni, dei vostri progetti. Qua potrebbe esserci proprio un'apertura, perché questa carta, avete questa gabbia che non c'è più, dal quale questo uccello esce, perché vuole maggior libertà, maggior spirito di avventura. Ok? Quindi qua c'è proprio la possibilità o di essere comunque aperti nei confronti delle persone o di una situazione, quindi accogliere a braccio aperto questa novità che può riguardare più sfere nella vostra vita, perché siete pronti ad affrontare le novità, siete pronti anche a coglierle al volo, oppure questa carta vi invita proprio a liberarvi da condizionamenti e da catene anche di sudditanza energetica, che portate anche dal passato. Qua sicuramente è carta di speranza, di comunque successo. Siete comunque determinati, coraggiosi, perché volete comunque raggiungere quella posizione ambita sul lavoro, oppure magari sviluppare o far evolvere ancora di più un rapporto, avere un nuovo rapporto amoroso. E questo angelo, l'angelo di Melahel, è l'angelo della salute e della guarigione. Quindi c'è proprio un benessere psicofisico-emozionale a 360 gradi. Potrebbe esserci anche un viaggio, anche per un lavoro, oppure anche le fere, sbago durante questa settimana. Dovete uscire dalla vostra zona comfort, avrete i cosiddetti attributi per arrivare al successo. Ok? Quindi mi raccomando, settimana giusta e decisiva per molti di voi dei segni d'acqua, per arrivare a un dunque. Ok? Per decidere che strada prendere. Ok? Beh, incominciamo bene con questa prima stesa. Ma andiamo avanti con i prossimi messaggi, con la seconda stesa, carnici di segni d'acqua. Abbiamo il 2 di bastoni, vicino alla torre, vicino al confronto, e vediamo la carta angelica, che in questo caso è positiva, dell'angelo Labia. Beh, sicuramente c'è una manifestazione, una rivelazione. Ok? Vi sarà rivelato qualcosa o c'è proprio una manifestazione? Avete tutti gli strumenti del caso per intraprendere un cambiamento che può portarvi comunque un rinnovamento importante nella vostra vita. Molti di voi sono di fronte a un bivio, a una scelta, soprattutto da puntista professionale, creativo, progettuale, delle passioni. Quindi, avete magari pianificato un'idea anche durante le settimane o i mesi precedenti, ora è giusto, pian pianino, entrare in azione. È importante comunque vedere oltre e ampliare i vostri orizzonti. Ok? Ora, la carta successiva, che è la carta numero 19, non è la carta della torre classica degli arcani maggiori. Questa è la torre delle Sibille. La torre indica che cosa? Una istituzione. Indica un edificio pubblico, ad esempio. Indica anche proprio il fatto di avere un'ottima posizione di maturità. Quindi, siete pronti per maturare, siete pronti per sicuramente andare oltre, quindi anche per coloro che stanno cercando un cambio di lavoro, un avanzamento di carriera. Ok? E qui potrebbe esserci anche, entrare in ballo, una istituzione. Ok? Se per caso volete sposarvi, qua ci possono essere grandi occasioni anche per incominciare a mettere tutto in ballo. Ok? Quindi, mi raccomando, siete sicuramente pronti. Abbiamo qua la carta anche del confronto. Molto probabilmente dovrete confrontarvi con altri sfidanti. Modalità, diciamo, concorrenza. E' importante anche sapersi confrontare, ma anche è importante saper dire la vostra su una situazione, su una persona. Abbiate comunque i cosiddetti attributi per dire la vostra. Ok? Qualcosa, ripeto, vi sarà rivelato, potreste anche magari ricevere delle comunicazioni importanti, ripeto, nell'ambito dei progetti, nell'ambito professionale, nell'ambito creativo. Qua potrebbe anche entrare in gioco un uomo o una donna del segno dei gemelli o portatore o portatrice dell'ascendente. Qua, rispetto alle settimane precedenti, vi vedo molto meno abbattuti, molto meno tristi. Perché? Perché dentro di voi c'è questo fuoco, questa energia, questa carica che sprizza da tutti poi. Perché? E' veramente, vi siete rotte le scatole di rimanere in questa posizione, rimanere fermi. Avete bisogno proprio di un cambiamento, di una trasformazione radicale della vostra vita. Ma per far questo dovete magari, probabilmente, confrontarvi con altre persone. In base a quello poi prenderete una decisione. Ok? Quindi, sono comunque messaggi incoraggianti questi carici di segni d'acqua, eh. Fateli comunque vostri. Ma vediamo l'ultima stesa con altri messaggi. Abbiamo il sette di coppe. Vicino. All'anello. Vicino al compromesso. E vediamo l'ultima carta angelica. Che è una carta a rovescio, quindi con le leggi un po' più basse, legata all'angelo Kaliel. Ok. Allora, cari amici. Qui dovete giungere a un compromesso. Qua dovete capire qual è la strada più giusta per voi. Molto probabilmente durante questa settimana o durante il breve periodo, riceverete più proposte, più offerte. E' importante però non farvi facili illusioni. E' importante non sognare troppo ad occhi aperti. E' importante avere comunque i piedi ben piantati per terra. Ok? Sicuramente qua riceverete delle proposte anche dal punto di vista contrattuali. Oppure quindi voi potranno fidanzarsi. Qua potrebbe essere anche un matrimonio. Una ufficializzazione di un rapporto. Quindi un fidanzamento ufficiale. Fare nuovi incontri, nuove conoscenze. Ma in questo caso, soprattutto se dovete compiere una scelta, è importante giungere a un compromesso e capire i pro e contro di quella scelta. Se vado di qui, cosa potrei aspettarmi? Se vado invece da questa parte, cosa invece potrei ricevere? Cos'è più in linea alle mie energie? Dovete appunto capire questa cosa. Ok? Quindi sicuramente c'è proprio l'opportunità con questo sette di coppe e di andare oltre se volete. Ok? Quindi sicuramente sono carte comunque importanti queste. Ok? Dovete proprio anche ritrovare la strada giusta per voi. Una strada che vi conduca alla felicità e alle soddisfazioni. E di soddisfazioni, cari amici, secondo me, nel breve periodo comunque le avrete. Benissimo, cari amici, andiamo avanti con i segni di terra. Toro, vergine, capricorno, fantastica stefano, chiocciola.io.it Almeno di riferimento, se volete informazioni sui consulti privati di cartomanzia. Cari amici, i segni di terra, ben trovati. Se vado lasciatemi un like, un commento, condividete il video sui vostri social e iscrivetevi al canale attivando le notifiche attraverso la campanina in alto a destra. Incominciamo con le varie stese, utilizzerò questa volta 4 mazzi di carte e incominciamo con i primi messaggi per questa settimana. Abbiamo il 5 di coppe, vicino al sole, vicino momento per momento, dopo tranquilli perché vi faccio vedere e poi abbiamo la carta angelica che in questo caso è a rovescio, energie basse legata all'angelo Pujel. Questa settimana non sarà una settimana molto fortunata per voi perché è uscita questa carta dell'angelo Pujel però è uscita a rovescio. Qua, cari amici, siete un po' delusi. Cioè, delusi da chi? Da che cosa? Qua vi sento un po' sfiduciati. Sfiduciati perché, naturalmente, una persona che a voi comunque tenevate particolarmente vi ha magari fatto un po' del male. Quindi è una situazione un po' difficile, un po' complicata. Ok? Siete proprio comunque tristi. Siete un po' delusi. Però, non state aprendo troppo gli occhi perché fondamentalmente intorno a voi invece c'è ancora comunque speranza c'è ancora comunque qualcosa di positivo. Ok? Qua avete perso la vostra consapevolezza la vostra luce interiore la vostra guida interiore. Ok? Queste due carte proprio indicano questo almeno a mio parere. Dovete ritrovare quella luce dentro di voi. Ok? Dovete camminare pian pianino fare comunque anche un percorso spirituale non essere avventati non essere impulsivi vivere attimo per attimo nel qui e ora senza pensare troppo al futuro e nemmeno senza essere diciamo proiettati indietro nel passato. Ok? Qua, ripeto non sarà una settimana particolarmente fortunata quindi se per caso qualcuno ha intenzione di giocare all'otto o anche altri comunque giochi cercate di giocare con moderazione perché, ripeto non sarà una settimana proprio fortunata. Ok? Una persona che vi ha potuto ferire o magari che vi ferirà proprio durante questa settimana potrebbe essere anche un uomo o una donna del capricorno o portatore o portatrice dell'ascendente. Ok? Ritrovate però la gioia di vivere ritrovate il sorriso vivete con calma la vostra vita con più spensieratezza con più leggerezza con gli occhi di un bambino Ci saranno comunque, ripeto delle sfide dei momenti di pessimismo dei momenti di difficoltà e anche di isolamento in cui voi volete proprio isolarvi dal mondo Ok? Però è bene anche cercare un po' di uscire da questo torpore mi raccomando Ok? Ma andiamo avanti con i prossimi messaggi e abbiamo il re di spade vicino alla carta della Sibilla abbiamo il sentiero poi abbiamo la carta l'outsider e infine nella carta delle energie angeliche positiva in questo caso e abbiamo l'angelo Veuel Allora il fatto di allontanare eventuali dispiaceri dalla vostra vita dipende solo da voi troppo legati a una persona troppo prigionieri ma soprattutto prigionieri di voi stessi siete voi che attraverso gli eccessivi pensieri che albergano comunque la vostra mente pensieri comunque anche limitanti e un po' negativi che vi fate un po' condizionare vi fate un po' tormentare dei vostri pensieri quindi quella situazione che abbiamo visto poc'anzi di sofferenza di isolamento ma anche di difficoltà deriva soprattutto da voi non tanto dall'ambiente esterno dovete cercare di ritrovare le chiavi per aprire questo lucchetto che vi porterà fuori dalla vostra zona comfort siete di fronte a un bivio a una scelta dovete anche prendere una decisione e vicino a queste carte abbiamo la carta del re di spade il re di spade è una carta che vi invita a far leva su che cosa? sulla vostra autorità intellettuale sul vostro potere è importante uscire un po' allo scoperto non aver paura di dire la vostra e dimostrare il vostro punto di vista ok? quindi sicuramente questo approccio vi aiuterà molto ad elevarvi ok? ad allontanare anche eventuali dispiaceri o delusioni della vostra vita che sono dispiaceri che sono soprattutto legate al vostro inconscio a questi pensieri che vi tormentano scegliete ok? prendete comunque una volta per tutte una decisione e andate oltre uscite dalla vostra zona comfort perché il mondo è molto più bello se vi esponete se siete in grado di dire la vostra ok? quindi mi raccomando ma vediamo gli ultimi messaggi cari amici dei segni di terra abbiamo il nove di bastoni vicino ai pesci vicino alla carta la guida e vediamo energie angeliche in questo caso sono positive ed è uscito l'arcangelo Michael ok allora come ho detto poc'anzi dovete far leva sul vostro intelletto sulla vostra autorità intellettuale ed è questa che vi aiuterà a risolvere una situazione ok come carta iniziale abbiamo il nove di bastoni che cosa mi rappresenta il nove di bastoni il nove di bastoni mi rappresenta sicuramente il duro lavoro cioè anche se avete fatto fino ad oggi un ottimo lavoro per apportare una certa stabilità produttività e solidità nella vostra vita nelle varie sfere avete ancora necessità di fare dei piccoli sacrifici e quindi anche dare dei piccoli ritocchi al vostro progetto o a una determinata dinamica o rapporto interpersonale non dovete perdere la speranza dovete mantenere comunque la vostra comunque resilienza ok e dovete essere sempre fermi e decisi sulle vostre convinzioni ok questo è importante questa questo approccio sicuramente vi porta successo e abbondanza anche dal punto di vista proprio materiale di soldi ok dovete comunque anche in alcuni casi farvi seguire da una guida da un mentore da una figura esperta che vi può consigliare quale sia la strada giusta da intraprendere ok quindi sicuramente non tutto è perduto cari amici dei segni di terra molto dipende da voi mi raccomando ma andiamo avanti con i segni di fuoco ariete leone sagittaro ben trovati cari amici dei segni di fuoco fantastica stefano chiocciol di acco.it la media di riferimento se volete informazioni sui consulti privati di cartomanzia se vi va iscrivetevi al canale lasciatevi un like un commento e se vi va attivate le notifiche attraverso la campanina in alto a destra ma incominciamo con i primi messaggi attraverso l'ausilio di quattro mazzi di carte vediamo i primi messaggi per voi abbiamo gli innamorati vicino alla carta dell'orso poi vado a pescare i tarocchi di osho il mutamento e poi vediamo energie angeliche vediamo se sono positiva o negativa abbiamo la carta positiva dell'angelo Aiel benissimo allora qua questa ovviamente è una carta di rapporto specchiarsi anche negli occhi delle altre persone quindi portare avanti un progetto comune fare degli incontri dal punto di vista di amicizia di amore di conoscenza di rapporti interpersonali seguire comunque una meta in comune quindi mettersi insieme per appunto raggiungere uno scopo qui oltre all'incontro oltre al fatto di guardare nella stessa direzione potrebbe esserci anche il fatto di compiere dover compiere una scelta molto spesso la carta dei innamorati vi invita a fare una scelta che vi aiuterà anche a cambiare un qualcosa anche un lato della vostra vita sicuramente c'è tanta determinazione c'è anche tanta intelligenza da parte vostra l'orso mi parla di protezione quindi voler proteggere a tutti i costi l'altra persona o comunque le altre persone che vi stanno particolarmente a cuore oppure voi che verrete protetti da altre persone ok qua cari amici è venuto anche un flash l'orso può anche indicare l'aiuto quindi potreste anche farvi aiutare da persone esperte persone competenti ok se dovete risolvere eventuali problematiche nella vostra vita affettiva o comunque in generale nei rapporti interpersonali ok quindi sicuramente comunque sono belle carte abbiamo poi la carta del mutamento della trasformazione qualcosa sta mutando qualcosa sta cambiando nel vostro rapporto in questo caso rapporti ripeto che possono essere amicizia amorosi familiari rapporti lavorativi qualcosa di bello che sta cambiando potrebbe essere anche un'evoluzione di un rapporto o anche un premio una gratifica ok investire delle risorse per portare avanti un progetto qua l'orso mi può anche indicare le finanze può indicare il reddito il patrimonio degli investimenti quindi anche la concessione di mutui di prestiti ok anche i beni immobili quindi l'acquisto la vendita di una casa un trasloco per apportare un cambiamento benefico alla vostra vita c'è proprio una tramutazione e qua potreste avere anche a che fare con un uomo o una donna dei segni dei pesci o portatore o portatrice dell'ascendente nel segno dei pesci ok sono ottime carte queste anche di cambiamento di innovazione comunque di incontri di collaborazioni proficue anche che vi possono dare una certa somma di denaro ok e qua in questo caso alcuni di voi potranno anche essere fortunati al gioco però attenzione giocate sempre con moderazione ok qui c'è anche proprio la forza la determinazione per portare avanti comunque un rapporto di qualsiasi tipo comunque con beneficio ma andiamo avanti con la seconda stesa e abbiamo l'otto di denari vicino alla carta la fonte vicino alla carta lei e vediamo le energie angeliche sono positive con l'angelo Michael beh sicuramente qua ci sarà tanta organizzazione da parte vostra sarete comunque organizzati ok per cercare di portare avanti o anche iniziare in maniera giusta equilibrata un progetto otto di denari l'otto di denari è una carta comunque molto molto positiva cioè l'otto di denari è ok che fa parte della sfera dei denari quindi economica professionale progettuale creativa ma c'è proprio concretezza voler realizzare voler costruire qualcosa con qualcuno in maniera comunque concreta potrebbe esserci anche un nuovo lavoro un periodo di stage in un'azienda o anche il fatto di fare dei corsi di formazione nel breve periodo per sicuramente ampliare le vostre capacità e quindi anche attuare un cambiamento nella vostra vita per avere più soddisfazione in voi stessi è bene ritrovare la fonte di tutte le cose e la ritroverete ok qua potrebbe esserci anche un rapporto con una donna perché è uscita la carta lei e potrebbe essere una donna del segno della bilancia o comunque portatrice della ascendente in bilancia quindi questa donna ma poi il sesso riduttivo potrebbe essere anche un uomo con energie magari più femminili potrebbe aiutarvi a ritrovare la fonte ritrovare anche proprio l'origine delle cose ok e sicuramente con questa carta del lotto di denari state costruendo o porterete avanti un qualcosa di bello un progetto di vita insieme un progetto creativo economico che ha a che fare anche con delle case dei magazzini da puntista lavorativo quindi datemi da fare ok qua potrebbe esserci anche visto che abbiamo l'angelo Michael può indicare un viaggio potrebbe essere un viaggio per le ferie di svago o comunque anche un viaggio a puntista lavorativo ma vediamo infine gli ultimi messaggi per voi cari amici di serie di fuoco vediamo cosa ci dicono le carte abbiamo il re di denari molte carte di denari sono uscite comunque per voi in questa stesa c'è comunque solidità c'è produttività c'è successo il fatto anche di avere un riconoscimento un premio o comunque una gratifica ok poi abbiamo il gravame e poi la carta positiva dell'angelo le acchia ok allora qui sicuramente secondo me con questa carta del gravame avete un peso eccessivo che vi portate addosso ma un peso che potrebbe essere dovuto a eccessive responsabilità ok che possono essere legate soprattutto all'ambito progettuale professionale e creativo qua ripeto con questo re di denaro di denari scusate c'è comunque abbondanza sicurezza aver comunque potere una certa disciplina ok anche un certo controllo sulle situazioni sulle persone ripeto qua potrebbe esserci anche un'entrata economica un finanziamento un prestito però tutto questo può crearvi comunque dei pesi dei fardelli anche abbastanza importanti e un ottimo consiglio che voglio darvi le carte e questa è solo il sibile che è la carta della falce è quella di è importante questo rompere un qualcosa quindi se vedete che c'è qualcosa che non va che c'è qualcosa che sta minando la vostra stabilità il vostro equilibrio dovete romperla e non trascinarvela mi raccomando la falce è proprio una rottura tagliare i rami secchi ok quindi sicuramente cari amici sarà una settimana interessante per alcuni di voi potrebbe essere anche abbastanza pesante opprimente perché dovete comunque sopportare anche il peso delle responsabilità però non delmonete perché gli altri messaggi sono comunque più che positivi mi raccomando benissimo cari amici questi erano i messaggi per i segni di aria acqua terra e fuoco e lo aspetto sempre qui su la natura olistica ciao a tutti alla prossima ciao a tutti grazie a tutti